Allora ragazzi a fine intervento vi ringrazio tutti i messaggi che state mandando per i due foto commesso e niente qua non inizia a fare male, non era niente, inizia a fare male, però questi ho detto a non metà di niente mi faccio bella pizza, ho la mia pizza, tutti i cioccolatini, quindi non mi sfogano le roba così mi alzano l'insulina e dormo, per il resto tutto a posto, a campo ho messo il crociato bionico, così il prossimo carcio che do a qualcuno lo trapasso, a parte scherzi è andata tutta alla grande, vi ringrazio di cuore e niente qua c'ho la convena, non si sa mai, non vesti qua qualcosa, non vedi come si scava, e niente ragazzi grazie di cuore e ci vedremo sabato già inizio la riabilitazione, un abbraccio dall'ospedale e dal ginocchio bionico.